Qual è il modo più efficiente di gestire le spese per due persone che convivono? Spiegazione un po' prolissa e c'è un link, ma non posso cliccarci qua, faccio un po' difficoltà. Gestire le spese per due persone che convivono, ed LTR. Questa è una bellissima domanda, provo a risponderti. Intanto dipende, come sempre, da tante cose. Prima domanda che ti faccio sono due persone che sono in comunione di beni. È un matrimonio, una convivenza con comunione di beni oppure no? Se c'è comunione di beni, direi che è irrilevante. Se c'è separazione di beni, parliamo di persone che comunque sono in una certa relazione e quindi hanno per forza di cose spese comuni e per forza di... Non so, sono marito e moglie e non in comunione di beni, oppure fidanzati o altre cose, oppure sono proprio due coinquilini. Scenario comunione di beni totale è irrilevante. Scenario fidanzati che convivono, che però hanno ciascuno un proprio lavoro, un proprio stipendio, per i propri risparmi, non hanno comunione di beni, può aver senso, a mio avviso, tassarsi. Quello che facevo io prima di sposarmi era una sorta di tassazione e quindi in percentuale puramente flat tax, tra quanto guadagnavano i vari membri della famiglia, si contribuiva a un conto condiviso di spese comuni. Poi la decisione da prendere dopo è cosa va fatto con spese comuni e cosa no. Quindi la spesa al supermercato, sì, ma se mi voglio comprare delle scarpe, è una spesa mia o una spesa della famiglia? Va definito un po' bene il cos'è una spesa comune e cos'è una spesa personale. Non è facile mettere una riga, non è facile. Cioè se decidiamo di andare a mangiare la pizza è una spesa che facciamo assieme, oppure no. Se poi in pizzeria tu ti sfondi di vino e io prendo una margherita, non è facile. Dopo il scontato parliamo di una coppia che comunque è una coppia. A quel punto io operavo una tassazione proporzionale ai redditi e poi più o meno quasi tutto, tranne le spese leisure, venivano prese da quel fondo lì. Leisure però era tanto, anche lo sport, anche il vestiario, libri, giochi. Una volta c'era più leisure, adesso il leisure non c'è più. Tra due coinquilini, in realtà tra due persone che vivono sotto lo stesso tetto ma non c'è alcun rapporto extra, la cosa migliore è creare anche lì un piccolo fondo con però contribuzione 50 e 50 e definire proprio per bene le uniche spese da condividere che sono spese relative alla casa di solito. Un altro piccolo problema può essere nello scenario in cui siamo una coppia, quello in cui, ok, c'è un conto comune, ma io vado a fare la spesa pago con la mia carta di credito, da dove prende i soldi, ma anche quello lì può essere tranquillamente risolto con un accounting fatto dopo. Quindi pago io e dopo mi spedisco soldi dal conto comune al mio conto. Si può fare accounting anche su spreadsheet e così via. Io non ero così precisino anche perché ho sempre convissuto con persone che guadagnavano meno di un decimo di quello che guadagnavo io per cui alla fine erano sempre soldi che mettevo io. Io e le mie ragazze abbiamo entrambi 26 anni, siamo entrambi dipendenti statali e abbiamo RAL pressoché identiche. Ok, questo scenario equivale un po' al mio secondo scenario, quello in cui abbiamo due persone conviventi che sono in una relazione e che hanno stipendi più o meno simili. Beh, farei tassazione, come ho detto prima, e creerei un conto in comune e così via, definendo abbastanza bene ciò che viene preso dalle finanze in comune e così via. Affitto mutuo è dentro, bollette è dentro, spese è dentro, fuori è hobby, cene, con amici, bla bla bla. Sì, siamo d'accordo. Le mie donne mi hanno mai considerato taccagno? Non credo, non credo. D'altronde ero anche affascinante perché avevo una filosofia diversa dal non mainstream, ho sempre cercato ambienti non mainstream, quindi no. Come gestivi a livello psicologico? Oh, RIP consigli d'amore. Consigli d'amore di Mr. RIP. RIP due cuori e un libretto cointestato. Sono sempre qui, ragazzi, a ricordarmi, a ricordarmi pugnalate nel cuore. Come gestivo a livello psicologico e come si è evoluto il tuo rapporto con le donne, con cui convive dal punto di vista di finanza? Allora, io ho convissuto con una ragazza a Milano, poi non è stata una convivenza, ma vivevamo a due sputi e stavamo sempre insieme, un'altra ragazza a Milano e poi dopo con mia moglie a Zurigo e via. Quindi ho avuto due convivenze e mezzo. In realtà anche a Roma una ragazza con cui stavo, lei era fuori sede e abbiamo oltre fatto libretti cointestati, per un po' spesso stavo da lei, ma non era la propria convivenza economica. La convivenza è una roba, nel senso... Ma a parte anche la convivenza, ci riflettevo ultimamente, finché non fai figli non hai idea di com'è il rapporto con la persona con cui stai, cioè non hai proprio idea. Se tu nel progetto di vita hai fare figli, tutto quello che fai prima di fare figli è una euristica che ha il valore della technical analysis nel futuro del tuo rapporto. Tu stai facendo technical analysis, scalping, ma poi devi stimare dove andrà questa stock fra 30 anni. Non hai proprio idea. Tutto cambia, conosci le persone veramente. È un'altra... Per questo molti matrimoni falliscono, molti rapporti falliscono. E capire le euristiche su cosa funzionerà in un rapporto a lungo termine non ne ho idea. Cioè, comincio a capirne un po' di più, però è veramente un random walk. Le skill che servono a una coppia per funzionare dopo che hai fatto figli devi estrarle da pochi segnali nel pre-figli. Però qui, ok, sono andato un po' avanti con la risposta. Quindi in realtà la domanda era sulla convivenza e sulla psicologia della convivenza. Qual è il problema? A livello psicologico la convivenza è uno step importante. È ovvio che cosa c'è prima? Prima vieni dal vivo con i miei, cioè vivi con i tuoi, oppure già vivevi per conto tuo. Se venivi dal vivere con una famiglia e passi a convivere con un partner, penso che sia uno step super interessante, psicologicamente facile da gestire. E se è difficile, se ci sono dei problemi di convivenza, ottimo, l'hai scoperto prima di far passi sbagliati. Quanto è facile finire le relazioni con un click? Se invece vieni da vivo per conto mio e switchi a convivere con un'altra persona, credo che lì gli step siano un po' più difficili. Come si è avuto il mio rapporto con le donne dal punto di vista delle finanze? Non ho la risposta. È sempre stato abbastanza facile da gestire. E non è stata la convivenza o anche il matrimonio a far cambiare il mio rapporto con le finanze. L'impatto più grande l'ha avuto il trasferimento in Svizzera e il fare bambini. Quindi non è cambiato un granché. Anche io guadagno molto di più rispetto a mia moglie e a volte mi accorgo di fare le pressioni affinché anche lei possa avere un'entrata più alta. Non credo di gestire bene la cosa. Ecco, avete figli? Non so, mai me l'hai scritto. Se hai figli, sappi che l'asset da proteggere è il matrimonio. Non so, mai me l'hai scritto. Grazie a tutti